Ciao ragazzi, oggi parliamo di loro, di Dragon Ball, quindi abbiamo Goku, Broly e Yamcha, quindi queste bellissime figure prodotte da Banpresto per la linea Master Lies, quindi sono delle figure statiche, tutti gli effetti, ma il tutto dopo la sigla. Rieccoci a noi, come vedete le scatole sono veramente imponenti, è tutta dotata di maniglia perché sono anche delle figure abbastanza pesanti, nonostante sono realizzate in plastica, tutti gli effetti, ma facciamo un pochettino una magia, oppla, eccole qua, quindi abbiamo Broly, abbiamo qua Goku, eccolo, e qua abbiamo Yamcha. Posizionare un pochettino, allora andiamo un pochettino ad analizzarle, allora la prima particolarità che vediamo è che con Goku troviamo una testa alternativa che permette di metterlo in versione Super Saiyan I, eccolo qua, quindi semplicemente. L'altra particolarità che vediamo di queste figure, che è una, diciamo, prerogativa di quasi tutte le figure legate al mondo di Dragon Ball di Banpresto, è questo supporto, diciamo, un pochettino antiestetico, a tutti gli effetti, come vedete, è abbastanza anche visibile e imponente, ma perché molte delle figure, in questo caso, è abbastanza fissa, però è abbastanza, diciamo, pericolosa, quindi al corredo mettono questo supporto ulteriore per avere una garanzia di stabilità. Come vedete Broly è veramente imponente, quindi sono dei pezzi unici, quindi in questo caso Broly non ha nessun pezzo che si stacca, quindi è tutta una fusione unica di ABS-PDC, colorata veramente bene, quindi guardate anche la collana argentata, quindi che si muove un pochettino, veramente un bellissimo lavoro per anche un prezzo abbastanza, diciamo, aggressivo per questo tipo di figure. Qua abbiamo Yamcha, quindi stesso discorso, per esempio qui la particolarità supporti in plastica trasparente per Yamcha e per Broly, mentre per Wokko l'hanno fatto di questo azzurro, abbastanza, diciamo, forse in linea con la divisa o con i capelli, però a mio parere stona un pochettino, l'avrei fatto anche in questo caso di plastica trasparente. Ma analizziamola un pochettino, quindi una posizione abbastanza, diciamo, dinamica per Yamcha, mentre in fase di attacco, quello che diamo in una posizione, quindi, mani, diciamo, contratte, pronto a sferrare il suo attacco, è bello il paint, che è un paint particolare perché Banpresto realizza queste figure con della plastica già precolorata, quindi non vengono colorate successivamente, quindi vengono proprio stampate in questo modo e poi dopo vengono assemblate. quindi questa è la particolarità anche delle varie action figure di Banpresto, delle figure di Banpresto e anche dedicate al loro, diciamo, costo decisamente aggressivo rispetto a quanto siamo abituati di altre case. Mettiamola nella sua base e questo è il caso che messo senza base praticamente non sta assolutamente in piedi, quindi è impossibile, quindi qua la base sinceramente è d'obbligo. Broly vediamo, Broly dovrebbe stare, no, anche Broly è abbastanza sbilanciato in avanti come peso, quindi in questo caso la base serve per tenerlo un po' fermo, sono basi anche abbastanza imponenti e da stringere bene, eccolo qua. Quindi l'unico, diciamo, è Goku che anche senza base riesce a stare, quindi ha un baricentro abbastanza perfetto, centrale, quindi anche senza base ci può stare, quindi facciamolo senza che mi piace di più. Riportiamolo alla versione normale. Quindi questa è una scelta anche particolare di aver fatto per Goku una seconda testa alternativa, quindi braccia aperte, una colorazione, anche in questo caso fatta molto bene, quindi vediamo parecchie ombreggiature, le pieghe del vestito. Quindi ombreggiature, per esempio, sul vestito sono veramente poche, fatte, diciamo, alcune dove c'erano le pieghe, soprattutto, ma nel complesso veramente una bella figura che esalta, diciamo, il personaggio a tutti gli effetti. Broly ne abbiamo già un pochettino parlato, veramente imponente, la muscolatura, vediamo anche le varie cicatrici, un pochettino di ombreggiatura dove sono i muscoli. Yamcha, invece, per esempio, sui muscoli non ha nessun tipo di ombreggiatura, quindi è una plastica, diciamo, unica, colorata, però ripeto, sono fatte veramente, ma veramente bene. Quindi un rapporto prezzo-qualità decisamente aggressivo per questo tipo di prodotti, quindi qua un target anche diverso, quindi Banprest ha un target, diciamo, medio-basso per questo tipo di prodotti, anche questi basso hanno veramente poco, perché la qualità, invece, è veramente alta. E l'altra particolarità, vediamo se lo trovo, no, queste non sono quelle di Cibankuji, perché molte di queste figure qua, sono qua, e quindi Banprest ho realizzato tantissime figure che non sono messe in commercio, ma sono, diciamo, a estrazione, quindi sono i vari giochi che c'è in Giappone per estrarre le action figure o figure, che si possono vincere solamente, diciamo, avere solamente in quel modo, che non si possono acquistare. Invece ho il mercato, diciamo, europeo, Banprest proprio le distribuisce a tutti gli effetti, quindi tramite Bandai Francia, quindi che salutiamo e ringraziamo, ringraziamo il caro Matteo. E cosa possiamo altro dire? Bellissime figure, ottimo rapporto qualità-prezzo, belle, diciamo, in generale, e quello che mi ha sorpreso è veramente anche queste confezioni decisamente imponenti, ma una volta che si estragono, come si vede, anche perché, come ho detto prima, come vedete, la scatola è indicativamente la stessa dimensione brolica, proprio perché al suo interno c'è proprio la figura intiera, quindi non va assemblata ed è un pezzo unico qua, siamo sicuramente, adesso non l'ho pesata, ma siamo sopra il chilo tranquillamente come peso, quindi è una bella plastica piena e bella massiccia anche, diciamo, al tatto. Quindi, ripeto, un bellissimo lavoro da parte di Banprest, congratulazioni, rimettiamo la base, bellissimo, eccolo qua, e guardate che bell trittico che si può formare, quindi decisamente belle da esporre sullo scaffale, su una vetrinetta, e di cui poi, ovviamente, Banprest, a tema Dragon Ball, ne state lasciando veramente, ma veramente tante. Quindi, cos'altro dirvi? Altre figure di Banprest che recensirò, quindi ho qualcos'altro da vedere insieme a voi, altri prodotti da Machination, Stato, quindi abilitate la campanella, perché ci sono tante video, finalmente la postazione è quasi pronta, quindi non faccio altro che salutarvi. Ciao, alla prossima!